Dal Consumer Electronics Show al Salone dell'Auto di Detroit, il passo è breve. Non solo sul calendario, se a Las Vegas si è molto parlato di vetture senza pilota, nella capitale americana dei motori l'auto intelligente è realtà. La nuova Mercedes classe E, ad esempio, ha guida assistita e si parcheggia da sola tramite un'app, ma non solo. L'intelligenza superiore della nuova classe E è dimostrata dal fatto che essa capisce ciò che accade, scambia informazioni con le altre auto e con le infrastrutture, anticipando le condizioni della strada. Sempre che nei dintorni ci siano altre classe E o infrastrutture con tecnologie compatibili, naturalmente, questo punto, dice il capo di Fiat Chrysler Sergio Marchionne, dovrebbe spingere le grandi case a sviluppare tali tecnologie insieme. Viviamo quest'era di entusiasmo per la connettività e le auto a guida autonoma, come se queste cose dovessero arrivare senza sforzi e senza un costo. Alla fine, arriveremo tutti alla stessa conclusione, a una soluzione standard, ma nel frattempo avremo continuato a investire soldi separatamente per uno scopo comune che avrebbe potuto essere raggiunto in maniera condivisa, standardizzata e al costo minore possibile. L'idea di condividere risorse non è nuova per Marchionne, ma è un'idea di riduce da un tentativo fallito di instaurare una partnership con General Motors per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi.